Allora per me intanto è la prima volta partecipare a questo evento che già conoscevo in forma digitale online e ero molto curioso ed è una grande opportunità essere qui, quindi vi ringrazio intanto di sostenere la mia presenza su questo palco, in questa platea. Allora siccome io arrivo dopo una serie di talk impegnativi, prometto, vi faccio una promessa solenne che non tedierò tutti quanti voi con aliquote fiscali, imposte, cose noiosissime, annoiano me per primo, quindi questa è una promessa che mantengo. A giudicare dal titolo che ha questo talk posso dirvi intanto due cose, non ho preparato una scaletta, la prima denota la mia totale incapacità di dare dei titoli a dei contenuti, quindi ho buttato lì un'idea. La seconda è l'ispirazione da cui trago questa definizione commercialista digitale, perché? Rappresenta una categoria vecchia, stanca e che svolge un'attività pressoché obsoleta. Perché? Perché c'è un discorso anche storico, cioè il commercialista nasce come figura professionale grossomodo negli anni settanta, quando in Italia si è divulgato il testo unico sulle imposte e sull'IVA. Quindi in quel momento, negli anni settanta, in cui l'Italia era nel boom economico, comunque iniziava ad aprirsi anche un certo tipo di economia più dinamica del passato, nasce una figura di carattere amministrativo, che si è qualificata e si è identificata in un percorso, in un'identità burocratica. E questo poi, avendo, penso tutti, insomma, a che fare con una partita IVA, sapete cosa vuol dire? Adempimenti, gestioni periodiche, tasse da pagare, cioè voi pagate qualcosa a un certo punto che facilmente non sapete nemmeno cos'è e perché. Poi in realtà un motivo c'è, sta alle spalle e normalmente dovrebbe essere spiegato, dovrebbe essere illustrato dal consulente che vi segue, proprio perché il consulente è la figura di raccordo tra la vostra attività, che qui descrivete tra l'altro in termini di sogni, di aspettative, di voler fare, capacità di voler fare, che è il vostro lavoro. Quindi è il lavoro del mio cliente, quello di occuparsi e tenersi impegnato della sua attività, non quello di sapere quando scade l'IVA, perché si paga l'IRPEF, quant'è l'IRPEF. Tutto al più, siccome IVA, IRPEF, IRES, chi più ne ha più ne metta, fanno parte, da un certo punto di vista, del meccanismo di funzionamento delle vostre attività economiche, è bene che, insomma, un minimo, sappiate che a un certo punto dell'anno arrivano anche queste componenti qui. Allora, perché il digitale? Perché l'ideale, diciamo, la vignetta del commercialista è quella figura grigia, diciamo, anche un po' schivata nel corso dell'anno perché alleggerisce le vostre tasche a cui si portano, o meglio, si portavano i documenti cartacei che derivano dall'attività. Quindi io vado, faccio la gita allo studio, porto il mio pacchetto di carte, le lascio lì, non so che fine faranno, non so che cosa, e miracolosamente esce fuori, o maledettamente esce fuori un numero da pagare. Allora, che cosa accade? Che 2019 entra in funzione un un meccanismo chiamato fattura elettronica, di cui non vi parlerò perché è una noia mortale, però solo a dire che è stato il primo passo, il primo passaggio di una rivoluzione che è in atto, che riguarda da questo punto di vista la pubblica amministrazione, di digitalizzazione del flusso informativo, che consente per la prima volta alle imprese, ai professionisti, degli imprenditori, di dematerializzare un aspetto della loro gestione, che è quello delle fatture cartacee. E già quello lì risolve moltissimo, rompe un primo paradigma, cioè quello del rapporto fisico con un professionista. Anche perché le informazioni transito direttamente per i server dell'agenzia delle entrate, quindi sono già, nascono già tracciate, insomma questo è il senso. Ora quindi che cosa rimane? Rimangono tutti quei documenti che continuano ad essere gestiti in forma cartacea. Allora mi son detto, se una parte di questo processo è stato digitalizzato dalla pubblica amministrazione, scusate ho un dolore alla spalla, quindi faccio un po' fatica. Dico, digitalizziamo anche la restante parte e noi oggi tutti disponiamo di strumenti pressoché gratuiti che facilitano già le nostre vite, i cloud, i drive, non dico più nemmeno la posta elettronica, perché la posta elettronica che nasce ormai tempo fa, anni fa, è uno strumento non in tempo reale. Cioè voi immaginate, inviamo una mail a un consulente, a un professionista e questo magari risponde il giorno dopo, qualche ora dopo, se non settimane dopo, in casi più patologici. E invece noi oggi a cosa siamo abituati? A un rapporto più istantaneo, più diretto. Mettici dentro pure la, come dire, diffusione dei servizi di messaging, WhatsApp, Telegram e quant'altro. Questo ha avvicinato sempre più il professionista alle esigenze del suo cliente. E questo, adottato nello studio, in uno studio professionale, ho notato, soprattutto a seguito della pandemia che è un pochino costretta ad accelerare questo tipo di processo, che rendeva più felice il mio cliente e più allineato a un flusso costante di informazioni sulla sua attività. E lo ha reso più consapevole. Quindi ho trovato il modo, come dire, ho percepito il modo di essere maggiormente competitivo, io come professionista, rispetto ad altri miei colleghi che ancora hanno una gestione più tradizionale della loro attività. Questo perché ve lo dico? Perché vi invito, è un po' una dritta, no? A invitarvi a magari stimolare il rapporto con il vostro professionista in questa direzione, il quale da un punto di vista vi dico già cosa vi risponderà. Eh no, ma io su WhatsApp non dialogo, perché WhatsApp non ha valore ai fini legali, non mi interessa, mi fa delle foto ai documenti che sono sgranate, non si vedono e via discorrendo. Che da un lato è vero e vale anche per la mail. La mail, a meno che non sia una PEC, non è valida legalmente, quindi parliamo solamente di un'abitudine che viene acquisita con il modo di fare, con quanto noi siamo abituati a fare nel tempo. Oh, mettici pure che nascono delle esigenze chiamate dalle nuove professioni, per dire. Tutti quanti voi avete un sito internet, i siti internet a buon bisogno hanno anche una gestione delle vendite o un e-commerce all'interno del sito. E magari usiamo un Wordpress o un Prestashop o una qualunque piattaforma. Ora, queste piattaforme sono diffuse a livello internazionale, quindi non nascono con la visione che devono fare il favore della fiscalità nostra nazionale italiana. E quindi non gestiscono l'aspetto fiscale della vendita. Allora noi abbiamo un problema perché facciamo tutto un percorso chiaro di pianificazione della nostra comunicazione. Arriviamo ad avere un sito internet performante, arriviamo a vendere il nostro prodotto, ma poi abbiamo un gap, diciamo formale, con quelli che sono i requisiti richiesti dall'amministrazione finanziaria, cioè l'agenzia dell'entrata. Perché? Perché loro ancora ragionano con dei principi che sono del 73. Nel 73 internet non c'era né tanto meno Wordpress o altre piattaforme. Quindi che cosa si deve fare? Si deve tentare il più possibile di raccordare una vecchia normativa che contiene comunque i principi tributari, che contiene le regole che sono valide a grandi linee, in modo generale, con quelle che sono le tecnologie. Allora, per dirvi, quando noi abbiamo un e-commerce che vende magari corsi di formazione o che distribuisce contenuti, dov'è che manca? Manca il link con la struttura normativa di quello che deve essere poi il documento fiscale in uscita. E quello va fatto a mano. Quindi è un processo che deve essere gestito, deve essere compreso soprattutto dal consulente che poi vi farà i conti, i conteggi fiscali su quel tipo di risultato e deve essere gestito con gli strumenti attuali. Quindi con un export del database delle vendite, che poi deve essere gestito in forma di corrispettivo o di fatturazione elettronica e quindi che deve dialogare con ulteriori step del processo di digitalizzazione dell'informazione. Per fare dei nomi, per citare strumenti che tutti quanti conosciamo, abbiamo a disposizione, a un costo bassissimo se non gratuito, la piattaforma fattura in cloud, di cui si vede la pubblicità in tv, si sente parlare, che a mio avviso è quella più evoluta su questo genere di trasformazione. Vi mette a disposizione un sistema digitale di gestione anche delle vendite e che vi fa fare un passo avanti oltre alla semplice fatturazione. Cioè vi mette a disposizione anche una reportistica di quelle che sono le vostre fatture. E quindi voi potete a quel punto iniziare anche a misurare in termini di fatturato come sta andando la vostra gestione, come sta andando la vostra attività. Fattura in cloud tramite alcuni plugin che possono essere installati in WordPress comunica con i database generati dal carrello delle vendite degli e-commerce. E quindi vi consente in qualche modo di trasportare questi dati che escono in un formato loro dal database di WordPress e entrano automaticamente dentro il fattura in cloud che vi consente poi di generare una fattura elettronica. Questo per darvi una piccola indicazione sulla capacità anche di gestire questi strumenti, cosa che molti dei miei colleghi non hanno cognizione, non conoscono, sono anche magari disinteressati all'argomento. E quindi o vi gestiscono male, o vi dicono che non se ne curano, o vi dicono di andare da qualcuno che conosce l'e-commerce in generale. Poi si potrebbe fare una riflessione pure su quelle che sono le nuove esigenze, per esempio il tema degli influencer, o il tema delle sponsorizzazioni, chi lavora con Instagram, con i social. Allora, che succede? Che i social hanno messo più in risalto l'idea che qualcuno con la propria immagine possa diventare attore o promotore di un prodotto, di un marchio, di un servizio. Ok? E queste sono cose che sono sempre esistite, parliamoci, non è che ci stiamo inventando nulla, però il modo di farle è nuovo e innovativo, perché esiste il discorso dei social. Allora, questo ha portato a utilizzare più spesso in modo nuovo tutta la tematica del diritto d'autore, che è contenuta anche in alcuni tratti del codice civile, quindi andiamo indietro pure nel tempo. Però questo modo di utilizzare i social la riporta in alto e quindi un consulente che conosce anche le dinamiche di attività, di comportamento di qualcuno che lavora nell'ambito dei social e che lavora con la propria immagine oppure crea contenuti e quindi viene definito con i nostri termini attuali, influencer o promoter, non so, suggeritemi voi comunque, parliamo di questo, porta la tematica, la soluzione di questo problema sulla disciplina del diritto d'autore. E poi abbiamo ancora a disposizione tutto il discorso, tutta la semplicità d'uso del regime forfettario, che probabilmente voi tutti conoscete o comunque dal quale siete passati almeno una volta, che aggiunto a processi di cui abbiamo detto adesso, di innovazione, di trasposizione in digitale, si a quel punto quasi dematerializza completamente la gestione. Perché il forfettario nel corso d'anno, per esempio, non vi impone il problema della fatturazione. potete non fare la fattura, non quella elettronica intendo, ok? Quindi quella lì continua ad essere un adempimento che finché dura in modo tradizionale analogico, collezionate le fatture e ve le fate con Word, con Excel, insomma non è bisogno continuare a usare il calamaio, ok? E le collezionate, le date al commercialista, magari su un Google Drive, lo fate contento, a me fareste contento, e il commercialista vi compila il risultato di esercizio a fine anno e vi dichiara, diciamo, vi elabora il risultato fiscale. Quindi, io non vorrei aggiungere ulteriori informazioni, questa era un'idea nata appunto dalla mia esperienza, soprattutto accelerata con le dinamiche del Covid, che a un certo punto ci hanno trovati tutti quanti chiusi dentro gli studio, o peggio ancora, dentro casa, ed è, come dire, si è presentata all'improvviso, dall'oggi al domani, con il lockdown, l'esigenza di continuare a comunicare con i nostri clienti. Chi ha potuto, a fortuna loro, continuare a lavorare, perché molti sono stati interessati dalle chiusure, e per loro è stato veramente un momento difficile. E quindi, come dire, l'invito è quello di magari stimolare la conoscenza di questi strumenti e di proporli anche al vostro consulente e, diciamo, magari indirizzarlo a, come dire, adottare e di orientarsi anche lui verso una modalità più efficiente, che genera, regala efficienza anche a voi, ripeto, in modo anche gratuito, e della quale sicuramente potete beneficiare. Ora, siccome penso di avervi tediato abbastanza, volevo lasciarvi con una hit dell'estate e simulare la vostra curiosità con una domanda, ovvero, secondo voi, cosa pensa un elefante di fronte a un distributore di Coca-Cola? Elefante. Grazie, basta.